Grazie a tutti. 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 Caldo record in Calabria, vediamo se riusciamo a tornare questa mattina, chiudo viete il lavoro nei cantieri e naturalmente edili nelle ore di maggior calore. Andiamo direttamente a sfogliare le notizie provenienti dai quotidiani calabresi, partiamo direttamente da Gazzetta del Sud. Vedete la spromonta brucia, danni e proteste colpite pesantemente aree grecaniche e locride vertice d'urgenza in prefettura. Il regino, costretto a fronteggiare l'ennesimo e prevedibili allarmi incendi, mentre montano le polemiche e cresce la paura. Bonifica sia la riforma, sanità e grandi opere, riparte il dialogo occhiuto sindacati. E poi preso l'omicida, beveva a una fontana, ed è durata 24 ore la fuga di Francesco Sapone. Il 42enne ha travolto con l'auto e ucciso un extracomunitario ferendo un'altra persona. La polizia l'ha fermato in strada a Motta San Giovanni. Continuiamo sempre Gazzetta del Sud, vedete in occhiello a destra, Reggio, Piazza Garibati, dagli scavi emerge un tempio romano. E poi a causa di un guasto, gioia senza acqua per due giorni, critiche alla Solical e poi uno terreno unico alternativo alla pedemontana che non esiste. Ne parleremo mercoledì di nuovo a Calabria Sud, non perdete la nostra puntata. Bonomi, emergenza caldo come il Covid, il leader di Confindustria, Cassa Integrazione e Smart Working per i lavoratori dall'Inps, ulteriori indicazioni. Con le temperature elevate in Calabria, attività sospesa nei cantieri dalle 12.30 alle 16.00, FDL e opposizioni litigano sul salario minimo e sui mafiosi scarcerati. Destra senza argomenti, questa è l'accusa. Slitteri entra in Italia di Patrick Zacchi, rifiuta il volo di Stato e incontri con le autorità. Ancora in basso, Donna Rumba, notte di terrore a Parigi, lievi ferite per il portiere Bottino, 500.000 euro tra orologi, gioielli e borse. Gigio e la compagna Alessia aggrediti, legati e rapinati in casa. E poi aveva origini regine e si è spenta a 96 anni la voce leggendaria di Tony Bennett. Lasciamo per ora la Gazzetta del Sud per poi farvi ritorno e naturalmente ci spostiamo all'altro quotidiano calabrese. In prima pagina vedete il quotidiano del Sud. Disposto a uccidere, riteneva la ragazza, sua proprietà, le motivazioni della condanna a vent'anni e quattro mesi. Di Niccolò passa l'acqua, il Gup rileva l'indole violenta e una ripugnante concezione di possesso. L'aggressione a Davide Ferrerio a Crotone. E poi in copertina vedrete Denis King e la sua band questa sera a Cedro per Cedro Jazz. E poi l'evento è partito, il fotografia Calabria Festival. Andiamo al centro pagina e vedete la fotonotizia a destra. Cambia la rete scolastico, chiude, princi spiegano il nuovo piano di dimensionamento. Ed ancora l'immagine della Calabria 40 anni dopo, di Filippo Feltri. Sull'emergenza spromonta, sediato dalle fiamme, distrutti 15 ettari di bosco. Preso l'uomo che ha travolto e ucciso una persona a Reggio Calabria. Consorzi l'ha aggiunta dal via libera alla legge sull'ente unico. La relazione droghe e il consumo in Calabria. Allarma tra i nuovi consumatori di oppiaci. Il 60% è costituito da donne. Andiamo a Vibo Valencia. Vedete terremoto in comune, si sono dimessi tre assessori. Ed ancora a Catanzaro, Fondazione Betania, il forum terzo settore. Ricadute importanti. Reggio Calabria, trasporto pubblico, l'intesa ecologica dell'ATAM. A Vibo ancora la sindaca Limardo. Le dimissioni sono incomprensibili. Risposta a quanto accaduto. Crotone con Gesi all'incontro urgente. Presenti solo tre sindaci. E poi Calcio, Reggina, risvolti positivi sul cambio di società. Ancora Calcio, Catanzaro, lavori spediti e mercato fermo. L'ordinanza spesa di lavoro nei cantieri nelle ore più calde. Lasciamo anche il quadriano del Sud. Andiamo a leggere direttamente dalle nostre pagine il giornale di Calabria, diretto da Giuseppe Soduri. Emergenza e confronto positivo. Occhiuto ai sindacati. Apprezzata da CGL. Cisreguile la disponibilità del Presidente a parlare dei temi prioritari. Terzo megalotto. Sindaci soddisfatti dopo l'incontro con Occhiuto alla Cittadella. Spostiamoci ancora in basso. Sul giornale di Calabria. Reggio ha arrestato il 42enne che ha volutamente ucciso e investito il 27enne marocchino. Poi scoperti a Tropea dalla Guardia di Finanza. 38 bed and breakfast promossi sul web ma assolutamente privi di licenze. Via libera dall'aggiunta regionale al DDL sul riordino dei consorsi di bonifiche. Poi approvate alla Regione linee guida sul dimensionamento scolastico. Lasciamo anche questa pagina di giornale di Calabria. Andiamo direttamente a calabria.live diretto da Santo Strati. Vedete Calabria.live Sud, zona unica di imprese e sviluppo con la legge delega fiscale è possibile. Si tratterebbe di un'occasione irripetibile per il mezzogiorno per un vero e proprio cambio di passo dell'economia. Lo scorso 12 luglio la Camera ha approvato la legge delega per la riforma fiscale indicate tra le priorità individuate del PNRR per dare risposta alle esigenze strutturali del Paese. Cominciamo con le foto, notizie legate appunto a degli argomenti, imprese artigiane, Giovanni Cuglia del CNA. Calabria terz'ultimo nella pressione fiscale. Poi la Presidente Cuzzupi dell'Osservatorio contro le discriminazioni sul lavoro pronti a fare il necessario. E poi l'opinione corriglia un'autonomia, cresce la povertà, dice l'Arcivescovo di Napoli. Giussi Caruso e il nostro domenicale, dice Santo Strati, dedicato a lei. L'opinione Curia è sposato il ruolo degli ospedali in zona disagiata. Si tratta di Curia, non Curia, in questo caso Rubens Curia. Quindi Curia è sposato il ruolo degli ospedali in zona disagiata. Il terzo megalotto sulla statale 106, i sindici dell'Alto di Reno incontrano chiude. Poi è presentato a Reggio il Festival dell'Area. A Mendicino inaugurate le opere del Museo Urbano della Seta all'aperto. E poi altre notizie con l'ipsedixit del sindaco di Vibbo, Maria Limardo. Come sapete tre assessori si sono dimessi. Mettiamo in cantina il Calabria Live e anche il giornale di Calabria. Andiamo direttamente ora a sfogliare all'interno la Gazzetta del Sud. Vedete, intanto, come abbiamo detto già poco fa dall'inizio, brucia la Spromonte, verce d'urgenza in prefettura, l'ocride e aria grecanica. Quindi ripartono terribilmente gli incendi e col caldo tutto naturalmente si complica. Partiamo dalle notizie nazionali. Zacchi rifiute il volo di Stato, l'arrivo in Italia, forse domani. Donzelli scatena un'altra bufera politica. Mafiosi scarcerati con la scusa del Covid. E qua, vedete, andiamo nei dettagli. Anzi, aspettate, facciamo meglio così. Mi chiedo scusa, ma abbiamo necessità. Ecco qui. Allora, dicevamo, una bufera scatenata dal parlamentare di Fratelli d'Italia. Il Movimento 5 Stelle decisero i magistrati sulla bassa di una legge del governo Berlusconi. A fondo a Palermo del vicepresidente del Copasir, esponente di Fratelli d'Italia. Il Musumeci solleva un vespaio sul salario minimo, basso estensalismo. Il PD, in che paese vive? Liberi 376 boss per il dietro poi e il dietro front. Erano i primi mesi del 2020 al picco dell'emergenza del Covid, l'Italia è il lockdown, ma il paese si chiudeva. Dentro casa tornavano invece fuori quasi 400 boss della malavita organizzata perché effetti da patologie gravi che li potevano rendere a rischio contagio nei sempre sovraffollati penitenziari italiani. E poi, racchete candidata e il posto di Salvini, Saviano a Cosa. Andiamo avanti, caldo come il Covid, gas di aggrazione e smart working. Poi Leo blocca il condono e spinge sulla rottamazione. Terza rata, entro l'estate, Unione Europea ora attende il PNR riconfigurato. La morte dei purgatori, errori fatali, i primi due indagati e cartelle acquisite, risposte importanti all'autopsia. Sarà effettuata anche un attacco e poi la strage di Samarate, vedete, il gasto al padre del killer. Allieva di un circolo esclusivo, violentata dall'istruttore di Vera. Ecco qua. E' accaduto nel club romano con Foresteria, ad Anzio, i fatti, a Lavinio. Vedete, la ragazza di 15 anni ha denunciato, sarebbe il rampollo di un socio VIP abusato dall'istruttore di Vela. E qui vedete, figlio di un socio VIP esclusivo del reale circolo Canottieri, vedete, a Roma, nei quartieri della Roma, che conta. Questa è la denuncia di un allievo a 15 anni del circolo fondato nel 1862, oggetto di un'indagine della procura di Velleti. I fatti, secondo la Repubblica, anticipati alla Repubblica, si sarebbero svolti nella notte del 13 luglio. La ragazzina allieva di un corso di vela soggiorna nella foresteria della sede di staccata di Anzio del circolo. Di notte lei, un altro minorenne e un istruttore, 22enne, lasciano la foresteria per andare a casa di quest'ultimo, a Lavinio, sempre sul litorale, non lontano da Anzio. E poi lì sarebbe avvenuta la violenza. Andiamo avanti ancora. Madame e Giorgi rischiano il processo. Poi rapita e stuprata da due uomini per 48 ore, ancora un'altra bruttissima vicenda. Piano di Mosca per il grano all'Africa, raid su Odessa, distrutti, silos di cereali. E poi Trump e le carte segrete, a maggio il processo. Destri avanti nei sondaggi, ma Sanchez crede nel rimonta in Spagna. Andiamo avanti, ancora sempre sul giornale, andiamo nel notizia regionale. Tralasciando per ora lo sport. Ecco qua, ho chiudo i sindacati, l'ora del disgelo. Torniamo indietro e andiamo nel primo piano su questa notizia. Aperture su sanità e infrastrutture. Quindi si comincia a ragionare tra regione e sindacati. Il governatore alluncia una regia ad hoc sugli accreditamenti. L'interlocuzione con RFI per interventi di 9 miliardi sulla rete ferroviaria. E il ritorno al dialogo tra il governatore e i segretari CGL, CIS e UIL. Ancora la regione applicherà criteri meno stringenti per salvare le scuole e il dimensionamento deciso a Roma. E purtroppo sono delle imposizioni. Intanto il lavoro è vietato nei giorni di caldo, nelle ore di caldo. Andiamo in basso, via libera al testo di giunta. Ora l'esame finale in consiglio. Consorzio di bonifica, c'è il primo sì alla riforma. E poi Calderore insiste sull'autonomia. Farà bene anche al sud. Fontana, c'è chi preferisce, mamma Roma. Andiamo avanti ancora con Gazzetta del Sud. Omicidio alla stazione di servizio, appena 24 ore di fuga per sapone. L'uomo, sorpreso per strada, beveva una fontanella pubblica e poi naturalmente è stato arrestato dalle forze dell'ordine. Decisive per l'individuazione delle riprese e le telecamere di sicurezza. Quindi anche in questo caso le telecamere sono state fondamentali. L'arcotraffico, l'accordo tra Campari, Ermitani e Regini. Si tratta dell'ultima scoperta. Andiamo a leggere i dettagli che ricorderete ha fatto parlare anche per la quantità di droga sequestrata. L'inchiesta sul maxi sequestro del canale di Sicilia svela rotte e patti segreti per inondare il mercato di cocaina. In carcere l'equipaggio diretto dal bagnarese Vincenzo Catalano. E poi ci spostiamo ancora. Vedete in queste pagine. L'ennesimo attacco al cuore del parco della Spromonte. Cresce la preoccupazione sugli episodi che si ripetono in luoghi remoti. Il fenomeno che sembrava debellato nell'area protetta si riaffaccia a distanza di due anni. Quindi la paura e il perimetro delle fiamme si allarga sulle cime della Spromonte. Il parroco all'istituzione più custodio del territorio, il parroco della frazione di Montebello Ionico, la frazione Masella, Don Giovanni Zampaglione, che lancia un appello. Ancora rimaniamo. L'inferno dell'area grecanica regina. E qui ancora sul, vedete, Roghi a Montebello Ionico, San Giovanni, Medito, Roguti, San Lorenzo, interventi da terra a cielo per dumare le fiamme che minacciano case e bosche. Guardate qui queste immagini per capire anche l'entità degli incendi. Ovviamente il caldo c'è di per sé, non c'entra nulla con gli incendi, ma è ovvio che si complicano le cose. E qui ancora dei frame, degli incendi e degli interventi. Guardate sulla strada 166 cosa si denota al momento in cui si passa le fiamme e il sole, il caldo. E qui vedete altri roghi in provincia di Reggio Calabria e poi l'intervento dei caneder che tutti conosciamo, spesso anche risolutivi. Andiamo avanti. All'orica la diciestesima edizione del tradizionale concorso col diretti, i vincitori degli Oscar Green. Reggio dagli scavi di piazza Garibaldi emerge il tempio di epoca romana e questa, vedete, è una delle notizie più importanti forse che oggi tratteremo. Nell'area destinata al culto è rinvenuto il secondo esempio in Calabria di questo genere di strutture tipiche invece dell'Italia centrale. Quindi è rinvenuto un vero e proprio tempio di epoca romana. Questa è la seconda campagna di ricerca archeologica nell'area di piazza Garibaldi. Una piazza che da questo punto di vista è molto sfortunata perché, insomma, sfortunata per il fatto della chiusura, fortunata perché ovviamente si trovano questi reperti di grande importanza. Se violenza sulle donne all'osservatorio funziona il Presidente a parlare, sempre a Reggio. E poi appello, una corte di appello in affanno al CSM si cerca una soluzione. La consigliera Miele, magistratura democratica, il secondo grado e il collo di bottiglia del sistema, lì dove rischia di arenarsi tutto. Sanremo Rocca è trend all'arena dello stretto, un altro evento che sarà presto. Locali inadeguati, stato d'agitazione, a oltranza, assemblea delle personali, degli uffici, dei servizi sociali per i minorenni. Ancora sul Reggio, l'università incassa i 28 progetti finanziati. E poi Donitano Calabro, santo, farebbe da modello. Ci spostiamo ancora, la Biennale non vuole fermarsi più, ieri il punto a Fortepoggio, Pignatelli. E poi Campo si candida, polo permanente. Ancora i magnifici 49 del liceo Campanella di Reggio Calabria, riguardo ovviamente l'esame di maturità. Chetti Marino è la nuova presidente del Lions. Ancora sanità pubblica all'iniziativa del PD Smuove, Leacque, Villa San Giovanni. E poi l'albergo apre anche le porte del carcere. L'alberghiero apre anche le porte del carcere. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Qui la scuola alberghiera che è inquadrata. Vedete, Villa San Giovanni, il progetto Sapori di Libertà. Dal prossimo anno, una sezione per i detenuti. Quindi interessante anche questo progetto. E qui vedete la scuola alberghiera professionale di Villa San Giovanni. Poi ci spostiamo ancora. Sanità pubblica in istitua del PD Smuove le Acque. Ancora fino a stasera la festa del volontariato a San Ferdinando. Mentre a Villa San Giovanni, turismo, cultura e sport. Le forze, la forza di estate in Villa. E poi ancora coliformi nell'acqua di un serbatoio. A San Ferdinando Spremonti evitati gli usi potabili e alimentari. E qui si indicano le incontrate. Vedete Badia, Covala, Colacaruso, Figurella, Madaloro. E poi San Bartolo, San Luca e Sant'Oreste. Scarifiche e betumazione nelle strade periferiche. E qui un po' dappertutto. È un periodo di betumazione. È bel caldo che agevola anche questo tipo di lavoro. Ma ovviamente i cantieri sono pesanti. Spampinato tra poco affideremo le fognature. Riguarda Palmi. È il decimo lotto del programma di manutenzione. Rimaniamo sempre sulla piana di Giulia Tauro. Andiamo direttamente a Tauria Nova. L'infiorata nella rete dell'arte effimera. Vedete? E poi a Cinque Frondi. Minoranza e PD. A Conia. In otto anni da sindaco. Nessun atto per lo stadio. Siamo Cinque Frondi. Sapeva del diniego da parte della Lega Nazionale. Dilettanti. Quindi ancora polemica sulla squadra. A Cinque Frondi. Intelligenza artificiale. La rivoluzione della diagnosi precoce. Della demenza. E di Delia Nuova. Vedete? Andiamo nei dettagli così. Leggiamo meglio perché a distanza non si legge. Perfetto. E della Nuova. Le Kiev Technology Officer. Officer di Mindhid. Praticamente si tratta di Pasquale Fedele. Ingegneri dell'Università di Siena. Tra i fondatori della Startup. E poi ancora Bagnara e polemica sugli interventi progressi. Vedete? Al Fognone. Vediamo un attimo. E qui c'è la polemica Bagnara riguardo appunto del Fognone. Ci spostiamo ancora in basso. Lavori pubblici a scuola. Le critiche del Circo di Fratelli d'Italia a Polistena. E poi Giulia Tauro. Due giorni senza acqua. Cronaca di un inferno a 40 gradi. Vedete le autocisterne che forniscono i cittadini di acqua. Terribile quello che insomma è capitato. Una serie di guasti concatenati. Che ha messo in difficoltà la Sorical. Giulia Tauro da due giorni. Quindi senza acqua. Il sindaco Alessio tuona. La società dovrà rivedere il suo piano di intervento con mezzi sul posto. Non è possibile una cosa del genere. Le sorgenti di gilet ancora inutilizzate. Continuiamo da Rosarno. Lavori di manutenzione di scuole e comunale. Poi Corso Umberto Chiuso. Laureana di Borrello. I cittadini protestano. L'omaggio a sacco con il Festival di Arte e Cultura a Giulia Tauro. Tutto il bello della Locria e della Piana. L'impegno di Confcommercio a Gerace e Taurianova. Qui c'è uno speciale. Quello che non capiamo. E qui parliamo di iniziative legate a Confcommercio. Ultimi preparativi per l'ifesta dell'arte della strada del Borrello Incantato a Gerace. e il concorso nazionale dei Madonnari. Il grande contributo dei commercianti con le associazioni del territorio. Energie migliori capaci di fare squadra a Locria e della Piana. Quindi riferendo a due iniziative importanti. Qui se vedete le immagini abbiamo i dettagli dei Madonnari del Festival di Gerace. Appalti con il nome della figlia platiese condannato a Milano. Inflitti 3 anni e 3 mesi a Piero Paolo. Portolesi per il reato di trasferimento fruttosto di beni e Valorio. E poi ancora Melito. Il comune chiede un liceo musicale a Bovalino. A rischio finanziamento il polo dell'infanzia. Plastica Applati in cambio di punti spesa. E poi Bandogal in biblioteca un infopoint turistico. Ancora il Gresti infiamma i cuori dedicato a Domenico. Passo adelante. La danza fa spettacolo a Bovalino. Rimaniamo ancora sulla Ionica e parliamo della Ionio Tirreno. Mercoledì torneremo su questa chiusura che ormai è certa per inizio 1 gennaio 2024. Dicevamo un disastro annunciato per gli illusi della Pedemontana. Quello che doveva essere la Giulia Tauro-Locri è un percorso tortuoso, incompleto e folle pensare che possa costituire una reale alternativa. Quindi si parlerà anche della Pedemontana, l'ex statale 111. Vedete che attraversa praticamente la Spromonte. E qui il servizio da città nuova di Flavia Bruzzese che spiega quanto noi poi andremo ad affrontare meglio a mercoledì durante Calabria Sud. Tutto pronto a roccella per i ragazzi dell'Unitalsi. Ci sarà il campo, gioia di inaugurazione, curtale, giornate di gioia che ci sono mancate tanto. Ovviamente si riferisce al periodo del Covid. Tutto all'oratorio parrocchiale. Quindi la presenza del Vescovo e di tanti anche dei parlamentari europei saranno presenti. Ricorderemo tutti il campo estivo della pandemia si torna a ranghi completi. Decisione del Tribunale Reggino Sorveglianza Speciale Revocata al Sanluchese Sebastiano Giorgi. Continuiamo ancora sulla Locride. Vedete una seduta aperta del Consiglio metropolitano. Dovrebbe svolgersi a 5 fronte gioiosa, forse a fine mese. E riguarda, immaginiamo da quanto scritto, sicuramente la chiusura. Infatti chiusura soltanto parziale o a tempo per quanto riguarda la strada Ionio-Tirreno. Sì, eccola qui. Una seduta aperta del Consiglio metropolitano, eccetera. Limina e Torbido. Andiamo ancora avanti. All'Ocri, la furba e lo sciocco di Sarro, oggi nella corte del municipio. Questa sera all'Ocri, nella corte del municipio alle 21.30 avrà luogo la rappresentazione dell'opera Buffa, la furba e lo sciocco di Domenico Sarro, la messa in scene a cura dell'Accademia Senocrido. Ci spostiamo ancora, nel senso, nella Locride. Gioiosa Ionica, bene comune, un'assemblea per radicarsi nel territorio. E poi, lo scientifico di Gioiosa Ionica ha fatto 13 in 5 baciati dalla Lode. Tra i loro, i primi diplomati all'indirizzo sportivo tra di loro. Eccoli qua, questi ragazzi. Complimenti, li vediamo tutti inquadrati. Questa è una campagna che fa questo giornale dedicata alle scuole. Un videoclip per lanciare, sbarre, siderno sarà girato nel rione nei tre giorni del Festival del Mare. Finanziato dalla Fondazione Calabria Film Commission, si intorrerà immersi nel blu. E qui, un finanziamento che consentirà di girare questo videoclip dalla Fondazione Presiduta Anton Giulio Grande, che ha destinato un contributo di 5.000 euro. Quindi, insomma, non è un vero e proprio film, 5.000 euro. Probabilmente non si pagano neanche le spese per le riprese. Caminion Fest, arte senza confini. Oggi a Camini, tra oggi e domani, un programma densissimo di eventi. E qui vedete il programma di quanto si svolgerà a Camini. Arte, terra, storia e cammino a 360 gradi. Andiamo avanti. Le donne d'Indrangheta che tradiscono il clan. A Siderno, a cura del centro dell'antiviolenza. Vedete, è questa iniziativa. Uccise, fatti a pezzi, eccetera, eccetera. Vi invito ad andare a guardare questo pezzo. Poi celebrata la memoria del capitano Verteramo a Siderno. Dal suo circolo, amici del mare. Il tradizionale concorso di pesca a Surici nel ventennale della scomparsa. Continuiamo su Gazetta del Sud. Ci abbiamo alla fine, anzi siamo alla fine. Solo guardare il meteo, ma c'è poco da guardare. Il cielo nella nostra regione è totalmente sereno. Non esiste l'opportunità, la possibilità di nuvole o ombra di qualunque tipo. Quindi anche oggi aspettate una giornata di forte, fortissimo caldo. Andiamo al Quadiano del Sud, andiamo all'interno. Slane lancia la fondazione e spalanca le porte del PD. E poi caldo un protocollo come il Covid con CIG e il lavoro da casa. Forza Italia contro Saviano in Rai, incompatibile col servizio pubblico, dicono. E poi sul Mar Nero i russi si aercitano con i missili. Erdogan riapre l'accordo del grano, ma la Russia purtroppo pretende condizioni. Attacco su Donetsk, uccise due bambini. E poi Zaki l'arrivo in Italia, slitta di qualche giorno. Pioggia è grande dal nord, col diretti troppi danni. Il boss in ospedale per un malore dopo le cure Messina Denaro trasferito in carcere. E poi rimangono due indagati, l'abbiamo visto, torniamo anzi meglio, due indagati per la morte di Purgatori, il giornalista che è scomparso qualche giorno fa. I parenti avevano chiesto delucidazioni sulla morte misteriosa. Disposto a uccidere perché riteneva la ragazza di sua proprietà. Il gruppo... andiamo nei dettagli, così leggiamo meglio. Il caso Ferrerio. Anzi, ricarichiamo, così il nostro touch ci consente di andare nei dettagli, altrimenti quando è piccola scritta. Le motivazioni della sentenza sulla brutale aggressione di Crotone. Il caso Ferrerio. Ecco, vedete, il gruppo rileva l'indone violenta dell'imputato, ma anche una ripugnante concensione di possesso ormai da antitesi alla morale moderna. E poi droghe. C'è un sorpasso di genere. Le donne sorpassano. Gli uomini fanno il 60% dei consumatori di oppiaci è costituito da donne. Nella nostra regione non si fa prevenzione. Tra i giovani qui c'è l'intervista del Sud Calabria. La rete scolastica cambia volto. Occhiuto e Princi illusso nelle linee guida del piano di dimensionamento. Quindi, previste 281 autonomie. Grande attenzione per le aree interne. Non si tocca... Andiamo nei dettagli. Non si toccava la rete dal 2012. Quindi, da più di dieci anni. Consorzio di bonifica ok alla riforma. E poi i sindacati incontrano. Occhiuto, disgelo. Bilancio, sanità. I motivi di una bocciatù. La relazione del collegio sindacale del consultivo dell'Asp di Cosenza. A Vibo si dimettono tre assessori comunali. Mentre zona franca in fiscalità di vantaggio al Sud. La Spromonte è assediato dal fuoco. L'abbiamo visto prima. 35 roghi in tutta la provincia. Il parroco di Masella. Basta piromani. Occhiuto segue la CGL e sospende il lavoro. Nei cantieri edri. Nelle ore critiche. Si stringe il cerchio sull'investitore. E' stato individuato ed arrestato. Scontro mortale nella provinciale. L'incidente è avvenuto con un mezzo pesante. Con il rimorchio. La vittima Vincenzo Celia. 19 anni. Viaggiava su uno scooter. Con un coetaneo. Ed è morto. Ecco qui. Vedete l'immagine. Andiamo nel dettaglio. L'immagine dello scooter. Che è stato travolto dal camion. E qui. Il corpo del ragazzo. Nei dettagli. Vedete. Terribile. Questo impatto. Che ha provocato la morte. E poi un altro incidente. Incidente aereo. Denuncia il titolare della pista. Non avrebbe installato i dispositivi per un perfetto atterraggio. E quindi il luogo dell'incidente a Cotronei. Si è verificata la cosa. Poi a Catanzaro. Fondazione Betania. E' solo l'inizio. Questo è un interrogativo. Le preoccupazioni del forum del terzo settore. sulle ricadute del comparto. Ancora si torna in aula con l'incognita rimpasto. E poi ieri conferenza di capigruppo. E poi l'assise è stata convocata per giovedì 27. Venerdì 28 di questo mese ovviamente. Ancora un passo verso le nuove opportunità nel sociale. Concluso il progetto. Paola del centro calabrese di solidarietà. Ancora su Catanzaro. Anzi, badolato. Economia del lavoro e le imprese. Il borgo diventa internazionale. Poi sta letto il gruppo liberamente e risponde alle critiche della maggioranza. Cinzia Lepore. Apri incontro con l'autore. 2023. Alla Mezzia poco personale e mezzi obsoleti. Nessun provvedimento nonostante le carenze evidenziate dell'Enac. Abbiamo saltato forse la notizia sempre dalla Mezzia. Sul sindaco Mascaro. Vedete? Riceve Gabriella Pulita. E poi allestimenti, lungomari e interventi di manutenzione. Ancora Carlopoli. La giunta si costituisce parte civile. La delibera. La decisione in discussione in consiglio. Tre disertate dalla minoranza. La delibera riguarda i procedimenti penali nei confronti dell'ex sindaco Talarico. E poi Gizzeria. Cresce l'attesa per il libro di Roppa. E state ragazze. Al piccolo principe ai tornei sportivi. L'esperienza educativa. A Crotone. Al tavolo. Solo tre sindaci su quattordici. Disattenzione dei comuni. Consorziati. A Congesi. Per l'incontro. Urgente. Quindi nessuno si è presentato. Autonomia speciale. Se ne discute. Alla Regione. Rimaniamo nel Crotoneste. Altro comunale. La soprintendenza blocca i lavori. E poi a Cironmarini. Il premio Crimisa. Estromesso. I cimeli di Mia Martini. In mossa. Villaggio Baffa. Cotronei. Reggio. Novità ecologica. Firmata. Atam. Siglata dalla segretaria. Wilpa. Patrizia Foti. E la di Peppe Basile. Cambiata la percezione di guerrieri. Sempre più simbolo del territorio. E poi sempre reggio. Meccanica. Esperti a confronto. Oltre 130 ricercatori proveniente da tutto il paese. Alla Mediterranea. Provincia. Lungo Mare di La St. Giovanni. L'estate. Può attendere. Primo lotto ancora. Off limits. Anche il PD. Perde la pazienza. Tradizione e no gastronomia. Musica e un cartone estivo per tutti i gusti. E poi avventura. Impegno e preghiera. Gran finale. All'oratorio salesiano. Testa. Testa Cagliuso Modaffari. Sfida. Una sfida all'interno della situazione dei sindici. Sullo sfondo. Imperitura. E pulita no. Nominati i componenti del comitato. E' aperta la battaglia per la presidenza. Giovanni Anastasi. Cento e lode. A benestare. La comunità concentra. E' vicina diciamo ai cento. Al cento e lode. Inastasi. Incontrata Rusalina. Festeggia il centenario. Eccolo qui. Il primo cittadino. Contributo di valori. E' sapere. Trasmesso a tutti noi. All'ocri. Moschetta e Portigliola. Si congede il medico condotto. Giuseppe Arone. Non è certo mancata qualche emozione. All'agente di Moschetta di Locri. Eccetera eccetera. Sulla base appunto di quanto. Del congedo. Del medico condotto. Anche Monasterace piange. Damerini. Musicista. Ed eclettico. Massimiliano. Damerini. E' espresso un grado di cordoglio. Per la scomparsa del maestro. Di 32 anni. Pianista e musicista. Considerato. Per i più rappresentativi. Interpreti della musica. E poi. Ci spostiamo ancora. Con due anni. Aromi e sapori. Tra le vie. E qui un fotino. Rapiana. Gioia Tauro. Il porto trapassato. Presente. Futuro. E poi accordo sulla foce. Del mesima. A San Ferdinando. Mentre a Giffone. L'SP. Sibio. Chiede. Lavori. E riapertura. Sport. Morente. A Cinque Frondi. C'è il dossier. Antipolemica. Vibbo. Dimissioni. Incomprensibili. Dice il sindaco. Lasciano tre assessori. Del gruppo. Di Pitero. Ci sarà. Appoggio. Esterno. Questo è un interrogativo. Il sindaco. Era pronto. A rimodulare le delega. Ma. E' stato colto. In contropiede. Momento 5 Stelle. Prepara una mozione. Di sfiducia. E cerca. Alleati. E poi. Sempre a Vibbo. L'ambuanza. A Vibbo Marina. Diventa un caso politico. Mare sporco. Nuovo. Signalazioni. Provenienti da. Bivona. Quindi. Problemi ancora col mare. Purtroppo. Appizzo. Il tempo dell'aranza è finito. Basta. Sconti. All'amministrazione. Poi. A San Bruno. Superare le distanze. E valorizzare le relazioni. Atropea. Scoperte. Nel tutto. Bed and break. Fantasma. Dalla guardia di finanza. Attività. Della tenenza di tropea. Della guardia di finanza. E poi. Atropea. Ancora. Due milioni. Per località. Gomella. Atropea. Anche il Dez Amore. Può continuare a operare. Annicodra. Pubblicato l'avviso. Sui centri estivi. Rivolte ai minori. Tra i 3. E 17 anni. Volley. Due nuovi arrivi. Per la Todosport. Calcio. Due macchine. Da gol. Spaccano il pass. Per i quarti. Calcio a 5. Anche a Vibo. Lasciamo. Poi vedete. Estate. Quotidiano. Con tante cose da vedere. Da scoprire. E questa è un'agenda per l'estate. Che vi invito ad andare a leggere con calma. E poi. La costa tirrenica. Gli eventi di costa tirrenica. Gli eventi di costa ionica. Tutto ciò che c'è da fare. Tra oggi e domani. Guardiamo il meteo. Giusto per renderci conto. Che ormai al centro delle nostre attenzioni. Le temperature. Qui le porta fino a 41 gradi. Ma noi sappiamo che il percepito. Per oggi arriverà ben oltre. Si parla di 47-48 gradi. In temperature altissime. Pericoloso stare al sole. Per domani. La situazione è identica. Se non con qualche alzata. Di 1-2. Addirittura a crotone. 3-4 gradi. Si arriva a 44 gradi. Le minime pensate. Si agirano dai 27-28 gradi. Quindi pesante. Veramente. Anche di notte. Immaginate a mezzanotte. Con 28-30 gradi. Andiamo a vedere dopo domani. Dovrebbe essere. Forse. L'apice. Per alcuni territori. Comunque temperature. Rimangono costanti. Si alza e si abbassa di un grado. Crotone addirittura a 43. Altre province 39. Forse la più fresca. Con 36 gradi. E reggio. Ma stiamo a vedere. E' tutto. Io vi ringrazio. Per averci seguito. Andiamo a dare uno sguardo. Su www.telemia.it Non c'è nessun altro. Appunto. Importante. Vi lascio. Nessuna ultima ora. Vi lascio. Al nostro. Alla nostra rete. Con l'appuntamento. Per il telegiornale. Alle 13. A 30. Primo appuntamento. Grazie. E buon sabato. Da sottoscritto. Da tutta la redazione. Di telemia. Questo programma è presentato da... 打terta. Telemia. Capisari. Su diverse peratingà. Come qua. Questa è un po' Grazie a tutti.